Io faccio sondaggi da tanti anni e ho assistito a una stupida obiezione una volta, e cioè i politici e gli amministratori non devono fare sondaggi su di loro, è esattamente il contrario, devono per misurare uno quanto sono popolari e specialmente ciò che piace e ciò che non piace, i sondaggi sono lo strumento scientifico per misurarlo, quindi giustamente la giunta attuale ha fatto un bando a cui hanno partecipato diverse società, una ha vinto l'incarico e misura regolarmente ciò che piace, ciò che non si fida solo delle proprie antenne perché i politici con tutto il rispetto massimo, delle volte si sbagliano, le loro antenne non sempre le azzeccano, vi posso citare un'altra volta qualche caso, lo stesso per un scoglio e invece misurano scientificamente come la pensano i cittadini. Grazie. Grazie.